Buongiorno a tutta la commerciazione e anche auguri, siamo oggi il 24 dicembre, 2016. Allora auguri a tutta la commerciazione. Bastiano, ma si diceva che auguri alla commerciazione per indicare che cosa? Come si diceva? Si diceva che poi avevano detto che è rimasto, però ci stanno andando a fare. Quando si avevano a casa e quelli dicevano buonasera a tutta la commerciazione, se ci stava cacca di una che non si parlava, quelli dicevano buonasera a tutta la commerciazione, fuori che io, però io non si sapeva chi era. Si capiva? Quindi auguri a tutta la commerciazione, fuori che io non si parla. Fuori che io, quella che era quella che era quella che era quella che non si parla. E quindi buonasera a tutta la commerciazione, fuori che io. Fuori che io. Siccome è Natale però, che buono, allora diciamo, buon Natale a tutta la commerciazione, buono e malamento. E si diceva buonasera a tutti. Eh? Buonasera a tutti. E buonasera a tutti, che signore? E perché? A tutti. E che signore? Sfregiativo, no? Buonasera a tutti. Aspetta, aspett, 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 bastiamo una sentenza qua. Qua è una sentenza che dice a tutti i vecchi, eh? Buonasera a tutti i vecchi. E che signore? Che ricchi una sentenza? E è che Natale e me non le ciascuno facciamo qua, che socciniamo sempre per mangiare le manacconi non quello, non so se manchi io ma è che c'è una crisi che non te la mangio solo aspetta c'è una crisi il bastione, c'è una crisi e se pure a questo mangi il macarino a pezzato mangi il macarino? a pezzato a pezzato o a pezzato? a pezzato la mamma era nostra la mamma era nostra a cretino perché io alla ricerca le macarino e dopo 4-4 ma faccio un macarino a pezzato a pezzato, a pezzato non condurgo, lo sento di lei ah no, una specie le donne le donne? le donne 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 io vi saluto vi auguro buon Natale grazie allontano bene se per caso volete fare un paio euro tenete che è mille euro disponibile si e questo è prima o poi le ha pagato le ha pagato perché è uno dei miei attori preferiti il zimolo quando accidavano fuori diciamo facciamo quella agli freddi e pepponi agli freddi e pepponi e quando entrava la gente diceva al posto diciamo fuori buonasera a tutte le compagnie quindi buonasera a tutte le compagnie e non molto per fare buonasera a tutti auguri a tutta la commerciazione oppure tutta la compagnia grazie